È però anche il momento di fare un sforzo in più e il tempo per questo sforzo è adesso. Gli esperti lo dicono con chiarezza. La diffusione del virus è legata in maniera diretta al numero di contatti che noi abbiamo, al numero di incontri che facciamo. Se tutti limitiamo al massimo queste occasioni, allora i numeri caleranno. È semplice. Quello che faccio è un appello duro, ma necessario, per sperare di non arrivare a una nuova chiusura totale. Per un po' di tempo dobbiamo incontrare molto meno persone, sia nelle case che nelle occasioni pubbliche. E in ogni caso seguendo le precauzioni. Evitiamo qualsiasi viaggio non strettamente necessario. Evitiamo qualsiasi cerimonia non necessaria. Evitiamo qualsiasi festa non necessaria. Sforziamoci di eliminare in vista di un bene superiore e per questo periodo ogni possibile occasione di contagio. Dobbiamo limitare i contatti. È necessario ridurre al minimo i contatti. Cambiare per un tempo limitato le nostre abitudini di vita è la sfida a cui siamo chiamati, ma è anche l'unico modo per tornare presto a quelle stesse abitudini. Il sindaco Giordani si rivolge a tutti i padovani chiedendo un ulteriore sforzo per contenere l'aumento dei contagi, molto significativo anche in città. Il primo cittadino invita all'uso della mascherina anche dentro casa quando si incontrano persone che non sono conviventi. È necessario uno sforzo da parte di tutti, dice il sindaco, per affrontare i prossimi mesi. Questo è l'appello che vi faccio oggi. Serve uno sforzo collettivo per tutelare la salute, il lavoro e l'economia. E questo è il modo migliore e più concreto che abbiamo per voler bene a noi stessi, agli altri e a Padova. Grazie a tutti.